Percepivano l'assegno sociale erogato dall'Inps circa 500 euro al mese senza averne diritto dal momento che vivevano all'estero dove magari si erano trasferiti da molti anni. Condizione questa che faceva decadere ogni diritto ma che invece è stata ignorata da 43 anziani che hanno continuato a percepire mensilmente sul proprio conto corrente l'assegno sociale. Sono stati però individuati e denunciati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma al termine di laboriose indagini avviate su segnalazione del nucleo speciale spesa pubblica attraverso l'incrocio dei dati acquisiti dall'Inps. Nella gran parte dei casi i titolari dei trattamenti pur vivendo stabilmente all'estero non avevano comunicato la variazione di domicilio all'Inps e si vedevano così a accreditare mensilmente il proprio conto corrente bancario postale dell'importo dell'assegno. Bastavano un paio di viaggi all'anno in Italia per ritirare il denaro ed il gioco era fatto.